Le varianti sbarcano in Veneto, Zaya in esclusiva rivela, ci preoccupano ma sono sotto controllo. Massima attenzione anche da parte dell'Ulsset per la ricerca di casi di positività della variante Delta. Arriva luglio e porta in dot il Green Pass. Bassanesi contenti, molti lo useranno per viaggiare. L'assessore svela il retroscena della centralina in consiglio, sono in corso trattative tra sindaco e privato. Buffera sull'Abbib fra scioperi e grandi timori dei dipendenti e la politica scende in campo. La bellissima fontana Buonaguro di Bassano, abbandonata all'incuria, invasa da terra e sporcizia. La variante indiana spaventa l'Alta Padovana, due cluster a San Giorgio in Bosco e Tagici, cinque le persone coinvolte. L'estate porta a Carmignano di Brenta, un cartellone di eventi per ripartire tutti assieme. Buonasera telespettatori, edizione serale di Bassano Tg. Apriamo subito il nostro telegiornale con il tema della spiaggetta di Via Pusterla, perché arriva una novità che ha lasciato per pressa la politica cittadina e molti bassanesi. Perché durante l'ultima saluta del Consiglio Comunale è emerso come il sindaco Elena Pavan stia conducendo personalmente una trattativa riservata con il privato che vorrebbe poi costruire una centralina a due passi dal Pontavecchio. Il progetto della centralina di Via Pusterla è al centro di un procedimento che potrebbe terminare a novembre o al massimo all'inizio dell'anno prossimo. E fin qui niente di nuovo. Lo stallo sul cantiere è anche entrato in Consiglio Comunale, dove le minoranze hanno chiesto all'amministrazione di Elena Pavan perché la spiaggetta di Via Pusterla non venga riaperta ai bassanesi. All'interno della risposta a questa domanda c'è però molto di più. Ascoltate con attenzione. Un tavolo tecnico per cercare di definire l'annosa questione tra enti interessati e l'autorizzazione, privati e Belfiore 90, affinché si giunga ad una soluzione che chiuda la vicenda giudiziaria che tiene in scacco l'intera area. Lettera del sindaco del 29-12-2020. Il tavolo si è riunito ed ora gli avvocati delle parti, compreso quello del comune, stanno cercando un accordo. Riassumendo, i bassanesi, l'opposizione e secondo le malelingue anche parte della maggioranza vengono a sapere che è in corso una trattativa che possiamo definire a ogni buon conto riservata fra il privato che vorrebbe costruire la centralina e il sindaco Elena Pavan. Che cosa si saranno dette le parti non è possibile saperlo. come non è possibile sapere quale forma abbia l'accordo messo sul piatto per la risoluzione della faccenda. Ci sono tutte le prospettive perché il progetto non abbia futuro, quindi è plausibile che si stia parlando di una pace per così dire economica con una buona uscita per il privato. Sarebbe però interessante capire di quanti soldi si stia parlando e soprattutto chi sarà a metterli sulla bilancia. Speriamo di non dover aspettare il prossimo consiglio comunale per saperlo. Luca Zaia ha tutto campo su varianti e vaccini in un'intervista in esclusiva per le nostre emittenti. I contagi crollano, i vaccini corrono, ma le varianti preoccupano e il tema entra nell'agenda politica regionale. Senza fare allarmismi ci vogliamo occupare di questi nuovi positivi, di queste varianti che sono assolutamente sotto controllo, che sono nell'ordine delle cose, però è giusto seguirli ora dopo ora. Nel Mirino c'è soprattutto la variante Delta. Sembra che la variante indiana, cioè la variante Delta, chiamiamo la variante Delta perché adesso per non offendere nessuno si usano queste sigle, la variante Delta sia una variante che riesce a infettare anche con cariche virali basse. A questo punto c'è chi si chiede se questa situazione potesse essere evitata. Si poteva evitare, impossibile evitare questo. Cioè chi vi viene a dire che si può controllare tutto ci deve spiegare perché in Gran Bretagna hanno 26 mila contagiati al giorno. Zaia annuncia anche due importanti novità sulla partita dei vaccini. Già da oggi cittadini che volessero, senza andare a prenotarsi nel portale, andare direttamente nelle farmacie. Adesso per ora vedrete la lista delle farmacie che hanno aderito nel portale della propria ULS, ma poi lo metteremo anche nel portale delle vaccinazioni. Si può andare comunque presso la propria farmacia. Massima attenzione anche da parte dell'Ulsset per la ricerca di casi di positività alla variante Delta. Questa variante sta circolando, per fortuna non nella nostra zona per il momento, ma abbiamo dei cluster in provincia di Padova. Quindi massima attenzione, stiamo procedendo ad un aumento dell'attività per l'effettuazione dei tamponi. Un aumento del numero di tamponi che si traduce in un piano straordinario di rafforzamento della sorveglianza epidemiologica, con lo scopo di individuare quanto prima eventuali casi di positività alla variante Delta del Covid. Passeremo da 1.400 circa che facciamo ogni giorno a 2.200 e abbiamo coinvolto Confindustria, andremo nell'unità produttiva di questo territorio con superiori ai 100 lavoratori. Non solo, i tamponi potranno essere effettuati gratuitamente presso i centri di vaccinazione, il punto tamponi dell'ospedale, ma anche in due supermercati del territorio, l'Emisfero Bassano e il Famila di Zanè. Iniziamo già domani mattina nei CVP, poi abbiamo allestito anche un'ambulanza che girerà anche il territorio e nei centri commerciali che abbiamo individuato. Non è necessaria l'impegnativa e neppure la prenotazione, l'adesione è su base volontaria. Invitiamo la popolazione a recarsi a fare il tampone nei nostri centri vaccinali, dove oltre al vaccino per la prima dose è possibile fare gratuitamente anche il tampone, ma anche dove vedranno il site dei tamponi. Se si fermano un attimo, facciamo il tampone, è gratuito e li rilasciamo al relativo certificato. Il Green Pass taglia il traguardo e l'Europa riapre ai viaggi e noi abbiamo chiesto alle persone se viaggeranno in Europa quest'estate utilizzando il Green Pass. Sì, io abito all'estero perciò, sì. Ah, quindi dove abita? A Berlino. Ha dovuto usare il Green Pass per venire qui? Sì, sì. E com'è stato? Tranquillo, tranquillissimo. Molto tranquillo. Quindi quest'estate ritornate in Germania o rimarrete in Italia? Ritorno tra una settimana. E lei cosa farà? Io sono di qua, io non mi muovo io. Sono già andato in viaggio anch'io in Germania a trovarla già un paio di settimane fa, tranquillo, sempre col Green Pass. Lei che cosa farà? Viaggio. Dove andrà di bello? In Francia. Utilizzerà il Green Pass? Sì, sì, l'ho già scaricato. L'ho già scaricato, un po' viaggiare con il Green Pass, non è problema. Non abbiamo ancora in mente nulla in realtà. Non abbiamo una meta precisa, precisa dove andare. No, no, pensavo di stare comunque dentro il territorio ancora per il momento. Beh, montagna sarebbe un po' più l'ideale adesso come prototipo di vacanza. Se posso, sì, volentieri. E dove andrai? Ancora non ho deciso, però se posso dopo la vaccinazione volentieri lo farò, perché no, insomma. Preferisco l'Italia, rimanere in Italia, molto, molto volentieri. Parliamo ora del caso ABB. La FIOM CGL ha proclamato quattro ore di sciopero in tutti gli stabilimenti d'Italia del gruppo ABB. Caso ABB ai lavoratori della sede di Marossica arriva ora la solidarietà anche dei dipendenti delle altre sedi italiane della multinazionale. La FIOM CGL infatti ha proclamato per venerdì 2 luglio quattro ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Oggi ancora di più serve una risposta di solidarietà e di mobilitazione da parte di tutta ABB, si legge nel comunicato. Insomma, la protesta si allarga e tornano a prendere posizione anche i sindaci del territorio, con una nuova lettera con la richiesta di supporto alle istituzioni. Primo destinatario il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Come sindaci facciamo ancora fronte comune, proprio per chiedere questa volta a tutte le istituzioni, dal ministero, alle varie commissioni parlamentari, di chiedere un punto fermo ad ABB e di sedersi di nuovo al tavolo della trattativa per salvaguardare gli interessi dei lavoratori. Non si possono trattare le persone così e non si può nemmeno non ascoltare le proposte propositive che arrivano al territorio, visto che ci sono in questo caso. E ancora il sindaco di Marossi, Camozzo, si rivolge direttamente ai vertici di ABB perché tornino al tavolo delle trattative e prendano finalmente in considerazione la proposta di acquisto arrivata da un imprenditore della zona. Si mettono una mano sulla coscienza perché sapere che su un territorio dove si dà una disponibilità di salvaguardare le persone, sono persone non oggetti. Dobbiamo ricordare dietro ad ogni lavoratore ci sono delle famiglie, ieri a manifestare c'erano dei genitori con anche i bambini piccoli, c'è bisogno di pensare a loro, al loro futuro. E sul caso ABB di Marossi che interviene anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Finco. C'è un atteggiamento sprezzante nei confronti in primis ovviamente dei dipendenti, dei lavoratori, ma anche nei confronti del territorio e delle istituzioni perché penso che è la prima volta che un'azienda si rifiuti di sedersi ad un tavolo con la regione del Veneto soprattutto alla luce anche di un interesse da parte di un imprenditore della zona nel rilevare l'azienda e quindi anche attraverso un processo di rindustrializzazione di dare un futuro a questi lavoratori che ovviamente sono molto preoccupati della situazione. Noi ovviamente cercheremo adesso tutte le strade possibili anche attraverso il ministero, il ministro Giorgetti, per ovviamente cercare attraverso i vertici di ABB di trovare una soluzione anche perché la soluzione c'è. Noi siamo ancora disposti ovviamente a dare un futuro a questi 100 lavoratori, però da ABB ad oggi zero risposte. E siamo tornati alla Fontana Bonauguro per vedere lo stato in cui riversa. Bassano, città d'arte e di grande bellezza, se non fosse, per certe fontane. Lo scorso mese vi avevamo presentato la situazione di abbandono in cui si trova la Fontana Bonauguro in piazza Garibaldi. Siamo tornati a vedere se qualcosa si è cambiato e se sia stato fatto un lavoro di pulizia. Nonostante all'apparenza sembri pulita, se ci soffermiamo a guardarla da vicino, notiamo che ci sono ancora rifiuti abbandonati. Sigarette, bicchieri e cucchiain di plastica al suo interno. Da monumento storico, la Fontana si sta trasformando in involucro di immondizia per i passanti che non curanti vi gettano di tutto all'interno. Invitiamo nuovamente il sindaco a prendere atto di questa situazione, in modo tale da trovare una soluzione adeguata al mantenimento della Fontana, che rappresenta un'opera molto cara alla città di Bassano e ai suoi cittadini. Quindi vi ricordo attraverso il nostro cartello del Tigilina Aperta, se trovate situazioni di degrado e di spolcizia, chiamateci al 340-321-8379. Torna il maxischermo a Cassola per celebrare gli azzurri. Quando la convivialità la fa da padrona. A Cassola si torna davanti al maxischermo nella caserma ai muli di Caparoncello, per gustarsi in totale leggerezza i quarti di finale tra Italia e Belgio. Dalle 19.30 di venerdì 2 luglio verranno distribuiti panini, patatine e birra a tutti coloro che vogliono condividere con altri appassionati l'emozione degli azzurri. Bollette dei rifiuti meno care per i cittadini di Mussolente. Il Consiglio Comunale di Mussolente ha approvato il piano finanziario per la gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021, che prevede una riduzione dei costi del servizio di circa il 4,6%. Riduzione che si traduce in un abbassamento delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. Un risparmio in bolletta, insomma, ottenuto soprattutto grazie al corretto svolgimento della raccolta differenziata da parte dei cittadini. A Mussolente, infatti, l'84% dei rifiuti è differenziato e riciclato. Numeri importanti per il bilancio delle latterie vicentine. Oltre un milione di ettolitri di latte lavorato, 417.000 forme di asiago fresco DOP prodotte, assieme a 71.000 di asiago stagionato e 78.000 di grana padano, per un fatturato di più di 75 milioni di euro. Numeri importanti per l'atterie vicentine, che ha portato i propri soci nel Teatro Verdi di Breganze, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020, nel pieno rispetto delle norme decretate in questa fase del Covid. Il presidente Alessandro Moccellina ha presentato alla cooperativa i numeri del 2020, spiegando alla compagine sociale che, nonostante il fatturato stabile, è diminuita la marginalità da distribuire ai soci, non riuscendo a dare il valore aggiunto che la base sociale meriterebbe. Il primo semestre dell'anno scorso ha infatti evidenziato dati entusiasmanti per tutto il settore alimentare, mentre la seconda metà dell'anno ha visto una forte sofferenza per il comparto. Il 2021, invece, è partito bene. Oggi l'atterie vicentine è il più grande polo produttivo di Asia Godop, con circa 300 aziende agricole associate, che rappresentano la vera forza della cooperativa, che negli ultimi anni ha avviato un importante piano di investimenti. Lo scorso giugno è stato attivato il nuovo centro di confezionamento di due linee per il taglio del formaggio a peso fisso e variabile. Sono state selezionate tecnologie di ultima generazione. Il 2020 è stato anche un anno di cambiamenti a livello strutturale, ma l'atterie vicentine punta sull'importante rete di spacci nel territorio. E ora vediamo altre notizie in breve del territorio. Sant'Enone degli Ezzelini va in pensione al geometra Emilio Furlan, colonna portante dell'ufficio tecnico del comune, per 39 anni e due mesi. È stato salutato dal sindaco Fabio Marine e festeggiato dai colleghi. Valbrenta fine settimana di addestramento nelle acque del Brenta Valstagna per il gruppo Forre del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All'evento hanno partecipato 24 tecnici della squadra regionale. Romano Dezzelino arriva sabato 10 luglio dalle 8 alle 11 in località Colcampeggia Camposolagna, il punto di raccolta mobile per rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rozzo torna al mercatino Cimbro, il mercato del borgo più antico dei sette comuni. L'appuntamento si ripeterà ogni martedì nei mesi di luglio e agosto dalle 9 alle 13. Tiene, i carabinieri durante la fiera di San Giovanni hanno attuato un'attività di prevenzione e repressione di reati in genere che ha interessato la zona delle giostre in cui veniva segnalata la presenza di giovani che ponevano in atto comportamenti antisociali. Rossano Veneto arriva al progetto Ci sto a fare fatica. Le iscrizioni sono aperte a tutti i giovani dalla terza media ai 19 anni che hanno voglia di impegnarsi per prendersi cura della propria città. Valbrenta, il comune fornirà i libri di testo delle elementari agli alunni residenti tramite il sistema della cedola libraria. Per informazioni, rivolgersi in municipio. Breganze, venerdì 2 luglio sarà raccolto l'umido con il porta a porta poi scatterà il nuovo sistema con il contenitore stradale aprivile con la chiave. Per sapere dove sono i contenitori, contattare il comune. La variante indiana è stata riscontrata in due cluster nell'Alta Padovana. Si tratta di tre lavoratori di San Giorgio in Bosco rientrati da Luzbekistan il 24 giugno scorso e dell'operatrice di un centro estivo di Tagi rientrata di recente dalla Spagna. positiva anche la bambina con disabilità seguita dall'operatrice al centro estivo. E riparte l'estate carmignanese tra luglio e agosto cinema, mostre, balli di gruppo, musica e teatro itinerante per il comune dell'Alta Padovana. Torna dal 3 luglio al 29 agosto l'estate carmignanese. Una rassegna culturale sotto le stelle che riporta a Carmignano di Brenta concerti, orchestre, live, spettacoli, cinema, sport in piazza, teatro e molto altro. Il tutto in assoluta sicurezza assicurano dall'amministrazione comunale. Con una piazza che vuole rivivere la socialità persa in questi mesi di pandemia. Una piazza che potremo vivere in totale sicurezza con le nostre attività commerciali che avranno modo di esercitare la propria attività all'interno della manifestazione e con le associazioni locali che ci hanno dato una grande mano per mettere assieme un grande cartellone culturale. Gli eventi si svolgeranno in piazza Marconi e nell'area pedonale ma anche nei quartieri con un piano di sicurezza che vedrà operativi i carabinieri in congedo e la polizia locale. Come già annunciato ci saranno anche sette postazioni offerte gratuitamente e che ospiteranno due associazioni di volontariato del paese ed esercizi locali per la somministrazione di cibi e bevande. Appuntamento da non perdere l'apertura della rassegna con il concerto della banda orchestra Giuseppe Bovo il 3 luglio. Sport in casa questa sera alle 20 puntata dedicata alla serie di assieme a mister Antonio Andreucci. 21 e 15 focus tra gli ospiti ci saranno anche Ulisse Borotto Fabio Maggio Pietrangelo Pettenò e Stefano Tonazzo. Ora in chiusura di telegiornale vediamo assieme gli sms e seguire poi le previsioni del tempo di domani. Ringrazio quindi tutti voi per essere stati in nostra compagnia vi auguro una buona serata arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.